Il contenimento cruento in questa fase di grande proliferazione dei cinghiali, lo strumento che può dare risultati più immediati. A parlare Antonio Liberatore, veterinario Asrem, sollecitato sulla questione. A destare preoccupazione, e ormai cosa nota, due aspetti. Gli avvistamenti, sempre più frequenti, di grossi esemplari, anche a pochi passi dalle abitazioni, con il pericolo che ne deriva per la pubblica incolumità, e l'altro legato agli enormi danni arrecati alle culture, con pesanti ripercussioni economiche per ampie fasce del settore agricolo. Allo stato attuale credo che, almeno per superare l'emergenza, il contenimento cruento sia quello che possa dare i risultati più immediati. Per contenimento cruento intendo la caccia ordinaria, che non può andare, come sappiamo, non può essere protratta per oltre i tre mesi prevista dalla normativa vigente. Altro strumento per contrastare la proliferazione degli ungulati, la caccia di selezione. Il Molise, attraverso l'assessorato regionale all'agricoltura, ha fatto importanti passi avanti su questo fronte, ma tale attività non decolla. In merito, la spiegazione del veterinario. Io personalmente credo che all'interno del mondo venatorio ci siano due distinte correnti di pensiero. Tra il cacciatore, quello classico tradizionale, che è più attento ad un aspetto più sportivo della pratica venatoria, cioè quello che riesce a godere anche dell'abbattimento di un solo cinghiale, fatto magari dopo un inseguimento di tre ore, dopo che è stato scovato, dopo che i cani hanno abbaiato a ferma, quindi diciamo così, una caccia più classica, rispetto ad una ala un po' più radicale che vede il successo della caccia al cinghiale dal numero degli animali abbattuti. Questo non significa che questi non concorrano poi a diminuire la popolazione, anzi tutt'altro, però sono quelli che poi non partecipano alla caccia di cosiddetta di selezione, che può essere attuata al di fuori, quanto previsto dal calendario venatorio, e che definita di selezione perché selettivamente dovrebbe essere in grado di prelevare quelle classi sociali più riproduttive e diminuire il tasso di riproduzione per anno di questa specie.